Ci sono tanti interventi anche sul fronte della sicurezza sul lavoro e quindi anche della intensificazione di quelli che sono anche i controlli per gestire in modo più appropriato tutte quelle che sono le evidenze in materia di sicurezza sul lavoro. Interveniamo su quello, interveniamo sull'intensificazione dei controlli anche sulla nuova misura, abbiamo interventi anche sul fronte.